Siamo con Daniele Campanelli, organizzatore dell'evento che si terrà l'1 e il 2 ottobre a Sant'Arsenia, a Polla per una sensibilizzazione ad una maggiore educazione stradale. Sì, Un Gol per la Vita nasce proprio questo, con l'intento di sensibilizzare sia i giovani ma anche i meno giovani su quello che è un tema molto a cuore, anche messo molto a cuore, che è quello della sicurezza stradale. Un Gol per la Vita è una manifestazione che si svolgerà in due giorni, partirà l'1 ottobre venerdì presso Sant'Arsenio con l'inaugurazione del primo villaggio sicurezza stradale, per poi continuare il 2 ottobre qui a Polla con la sfida tra le nazionali attori italiane, nazionali familiari vittime della strada, valevole per il primo trofeo allodidiano sicurezza stradale. Il giorno 1 a Sant'Arsenio avremo la presenza straordinaria del pulmo anazzurro della polizia stradale, insieme con la Gallardo, la Lamborghini e oltre che delle pattuglie in moto della polizia, oltre alla presenza di carabinieri, diversi stand e di associazioni presenti a livello nazionale. Ci sarà anche la presenza straordinaria della Megione Blu, questa associazione romana di stand man show che faranno degli spettacoli di auto con le antiche macchine sia dei carabinieri che della polizia. Inoltre all'interno del villaggio sicurezza stradale ci sarà anche la presenza di autostoriche, Ferrari, dell'auto e motoclub Vallo Didiano. Il villaggio sicurezza stradale il 2 mattina sarà dedicato alle scuole con dei percorsi di guida sicura patrocinati dalla FMI, Federazione Motociclista Italiana, per poi concludersi il villaggio alle ore 2 con la chiusura definitiva per quest'anno. Alle 5 e mezza invece c'è il primo trofeo Vallo Didiano Sicurezza Stadale con la partecipazione straordinaria degli attori della nazionale Attori Italiane e della nazionale Famigliari Vittime della Strada il cui presidente onorario appunto Hernan Crespo, ex attaccante del Parma e adesso appunto in forza al Parma. E questa per l'occasione sarà presentata anche la nuova sede dell'associazione? Sì, un gol per la vita è l'occasione per far lanciare qui nel Vallo Didiano la nuova associazione che arriva, l'associazione Famigliari Vittime della Strada di cui sarò responsabile, l'associazione Famigliari Vittime della Strada Vallo Didiano. L'associazione presente a livello nazionale con 119 sedi distaccate arriva qui nel Vallo Didiano con un preciso obiettivo, quello di essere un'associazione attiva e di agire in questo che è un ambito molto diffuso e a me molto a cuore appunto che è quello proprio della sicurezza stradale. Sì, si terrà a polla questo momento importante sabato 2 ottobre alle 17.30 presso lo Stadio Comunale Antonio Medici. Questa partita, partita del cuore, come la definiamo, amiamo definirla, anche se la denominazione esatta è un gol per la vita. Un momento sportivo così un poco più agonistico che deve sensibilizzare istituzioni e cittadini ad un maggior rispetto di quelli che sono i comportamenti e le regole quando si sta su strada. Quindi è una manifestazione legata al tema, strettamente legata al tema della sicurezza stradale, visto che purtroppo le nostre strade sono spesso teatro di gravi, gravissimi incidenti dove vi sono anche delle perdite di vita umana. Da questo punto di vista ovviamente c'è un impegno da parte delle nostre istituzioni, delle istituzioni locali, delle istituzioni della provincia di Salerno, della regione, a voler contribuire ad un momento di riflessione, ad un momento di approfondimento e di avere davvero quella sensibilità necessaria a scongiurare pericoli del genere. È una manifestazione che quest'anno si svolge a Polla e a Sant'Arsenio, a Sant'Arsenio venerdì 1 ottobre, che appolla il sabato 2 ottobre, ma è una manifestazione che come amministrazione comunale di Polla abbiamo inteso favorire non solo per quest'anno, per l'anno 2010, ma anche per i prossimi anni. Quindi ci siamo già dichiarati disponibili a fare una tappa di questo evento anche per i prossimi anni. Quindi l'augurio e l'auspicio è che si possa concretizzare in un evento importante per il territorio, visto la presenza di importanti personaggi del mondo dello spettacolo, di autorità importanti, autorità civili, militari, politiche, religiose. Quindi speriamo di poter avere il massimo da questo evento e cominciare a programmare anche per gli anni futuri. Abbiamo accolto con grande interesse questo evento, anche perché è molto attinente con le attività che vengono svolte dal comune di Polla. Da molti anni noi abbiamo stipulato una convenzione con la loro Ministero dei Trasporti perché Polla diventasse il comune capofile sull'educazione stradale, iniziando dalla scuola dell'infanzia fino all'istituto superiore. Le dimostrazioni sono i corsi che abbiamo di educazione stradale nella materna e il concorso che facciamo sull'utilizzo del casco nelle scuole superiori. Quindi un intervento a 360 gradi che ci porta ad essere molto più disponibili e sensibili verso questa tematica. Però normalmente quando parliamo di sicurezza e di incidenti stradali molte volte noi guardiamo soltanto un discorso di macchine. Non teniamo presente però che ci sono in Italia circa 7.000-8.000 pedoni che muoiono e che quindi l'educazione stradale deve essere interessata anche in questo senso. Noi abbiamo anche predisposto un decalogo sia sul comportamento dell'autista che sul comportamento del pedone. Quindi questa è l'occasione, grazie anche all'associazione che ha posto in essere questo evento, di confrontarci anche con realtà diverse, con nuovi progetti, proprio perché la situazione valediana tende sempre più a migliorare. È un'iniziativa lodevole, non per i partecipanti ma soprattutto per la finalità per quale viene fatta questa iniziativa. Parliamo di sicurezza stradale, un problema che sta un po' ancora a tutti, soprattutto per le tante vittime della strada. Quindi l'iniziativa per la finalità soprattutto è quella di sensibilizzare l'utene della strada, i giovani, a rispetto del coso della strada, quindi a rispetto delle regole. Penso che questa iniziativa va ancora ripetuta negli anni a venire. La provincia ha dato il suo sostegno non solo morale ma anche economico. Lo faremo ancora anche per i prossimi anni, noi l'abbiamo già fatta negli anni passati, quando io ero assessore dei trasporti. Tanto sono state iniziative, però dobbiamo fare ancora molto di più, nonostante che l'istituzione fa la loro parte quella di rendere sempre più sicure le strade. Ma assistiamo ancora a tanti incidenti, soprattutto per l'uso dell'alcol e per la non rispetta della velocità. Quindi vanno rispettate le regole. Quindi questa manifestazione, come dicevo prima, ha proprio questa finalità affinché nell'utente, nei giorni, negli adulti, nel cittadino entra questa cultura, la cultura sulla società stradale.